Le foreste pluviali dell'America centrale sono calve, buie e molto, molto umide. Gli alberi sono talmente folti e fitti che il 90% della luce disponibile non riesce ad arrivare a terra. Eppure gli animali notturni sono molto diversi da quelli attivi durante il giorno, per quanto buio il giorno possa essere. Le creature che vivono in queste foreste abitano un universo crepuscolare, un luogo dove in un'ora può cadere tanta pioggia quanta in alcuni paesi ne cade in un anno. Nei mesi più piovosi molte specie di rane depongono le uova sulla superficie delle foglie ed è qui che i girini trascorreranno le prime fasi dello sviluppo, fino a quando la pioggia non li trascinerà nella palude sottostante. La maggior parte delle piante della foresta ha foglie molto grandi per riuscire a catturare un po' di luce. In generale, le foglie hanno forma appuntita e sono provviste di nervature che consentono all'acqua di scivolare senza spezzarle con il suo peso. Molti animali sfruttano la grandezza delle foglie usandole come rifugio. I pipistrelli bianchi masticano la nervatura centrale della foglia di eliconia. Cedendo, la foglia forma una confortevole tenda sotto la quale trovano riparo dalla pioggia. Questi bruchi si riparano nello stesso modo. La femmina del colibri non ha altra scelta che resistere appollaiata sul suo minuscolo nido a forma di porta uovo. Quando le nuvole cominciano a diradarsi, uno stuolo di rane arboricole si riunisce fra le canne per deporre le uova. I maschi emettono richiami per attirare le femmine che sembrano sempre troppo poche. La maggior parte delle rane è attiva di notte e quando si fa buio, gli stagni della foresta risuonano del coro di decine di specie ansiose di accoppiarsi e riprodursi nelle basse acque tiepide. Il pallido sole pomeridiano accresce lo splendore iridescente del coleottero, uno fra le migliaia di specie di insetti che vivono in questo ecosistema. In queste foreste umide vi sono circa mille specie di uccelli e quasi cento specie di pipistrelli, compresa una seconda specie del pipistrello costruttore di tende. Proprio come il piccolo cugino bianco, anche l'Uroderma bilobatum sceglie le foglie di eliconia per proteggersi dall'acqua nelle lunghe giornate di pioggia. Fiumi e torrenti si gonfiano e si prosciugano in sintonia con il crescere e l'esaurirsi delle piogge. Nel corso di un anno possono cadere anche due metri di pioggia, tre volte la media del Nord America e dell'Europa. Dall'alto la foresta pluviale sembra una coperta di lana verde stesa su colline e valli, ma all'apparente uniformità inganna. A differenza dei boschi di faggi delle zone temperate, dove solo una specie di alberi domina, nella foresta pluviale possono convivere fino a 250 specie differenti per ettaro. Restano verdi tutto l'anno, perdendo e sostituendo le foglie continuamente. Molte specie fioriscono più volte durante l'anno e alcune addirittura ad ogni stagione. I rami più alti e i tronchi ospitano altre piante, specie epifite, come le felci, le orchidee, le bromeliacee, incapaci di sopravvivere sul terreno. Traggono dalle piogge e non dall'albero l'acqua e le sostanze nutritive di cui hanno bisogno. La ricchezza di forme e di colori dei fiori è stupefacente, soprattutto fra le orchidee. La maggior parte dei fiori della foresta pluviale viene impollinata dagli insetti, dagli uccelli e dai pipistrelli. E molti fiori contano sugli animali per la dispersione dei semi. Uccelli come il tucano verde si nutrono di bacche e allevano i piccoli in un nido abbandonato di picchio. Il tucano nutre i suoi piccoli soprattutto di insetti. Frutta e bacche sono invece la parte più consistente della dieta di un adulto. La maggior parte dei semi ingurgitata dagli uccelli passa attraverso il loro corpo senza subire modifiche e finisce poi sul terreno. Sono numerose le specie di animali che trasportano semi. L'iguana, dall'aspetto spaventoso, è il più grande sauro della foresta pluviale. Può raggiungere quasi i due metri di lunghezza e nonostante il suo aspetto minaccioso è quasi esclusivamente erbivora. Passa la giornata scaldandosi al sole sui rami alti degli alberi. I maschi crestati sono sempre allerta nel timore che arrivino maschi rivali o grandi uccelli da preda. La sua attenzione viene attratta da un tucano di Swenson ma non si tratta di una vera minaccia per il rettile. Non lo è neppure il tucano sul fureo. Entrambi si nutrono di frutta e di piccoli animali. Il suo becco così grande e robusto, puramente decorativo, non ha alcuna utilità pratica né per cacciare né per masticare. Le scimmie ragno si nutrono di foglie, frutta e bacche. Proprio come il tucano, completano la dieta con piccoli animali. Raramente salgono al di sopra della volta della foresta per paura di essere assalite da falchi e aquile. Sotto di loro un colibri cerca fiori da cui succhiare il nettare. Il colibri eremita costruisce il nido all'estremità di una foglia in modo da essere ben mimetizzato. Il suo becco è così lungo che deve tenerlo dritto mentre cova le uova. un altro colibri si nutre del succo dolce del frutto della cecropia. Il campilo pterus rufulus si nutre finché c'è la luce del sole. È il tardo pomeriggio e il colibri deve approfittare di ogni occasione prima che scenda la notte. sebbene nella foresta pluviale abitino creature tipiche del clima equatoriale ve ne sono alcune che frequentano climi meno tropicali. fra esse la volpe la volpe grigia passa la maggior parte del suo tempo lontana dal suolo fra i rami su cui si arrampica con abilità. È mangiatrice opportunista cacciatrice di topi scogliattoli piccoli uccelli e uova ma non disdegna la frutta a sua disposizione anche di notte. Vi sono anche mammiferi più rari tipici della foresta pluviale. Il coati è un piccolo mammifero carnivoro parente del procione. Ha un uso duttile e sensibile e un olfatto molto sviluppato. Questi cuccioli saranno ben presto dei provetti cacciatori. verso il tramonto la vita diurna va rallentando le specie notturne si preparano ad uscire dai loro rifugi. La femmina del colibri e remita torna al nido per l'ultima volta prima del tramonto. Ha sfruttato ogni minuto della giornata per rifornirsi di energie in vista della cova notturna. Per riprendere il re della notte bisogna fare un po' di contorsionismo. L'albero è il luogo di sosta diurno di varie specie di pipistrello. Alcuni si stanno preparando al viaggio notturno mentre altri sono ancora appesi all'interno del tronco. In un angolo c'è un vampiro che si ritira nel buio. Nonostante la cattiva reputazione di cui gode è quasi del tutto innocuo. Altri pipistrelli si ammassano in piccoli gruppi mentre alcuni di essi si preparano per il volo notturno. fuori il coro risuona alto e forte. Le rane arboricole da quelle piccole come una fava a quelle grandi come un avogado si radunano intorno agli stagni per deporre le uova. è questo il momento in cui le rane sono più vulnerabili. La smilisca è una specie di rana arboricola di grandi dimensioni. il crotopterus il re degli animali notturni è un grande pipistrello predatore che si nutre di rane ad eccezione della smilisca la cui pelle è ricoperta da un muco di sapore sgradevole. Neppure i pesci del fiume sono al sicuro. L'ecolocazione cioè la capacità di individuare l'ostacolo è tanto sviluppata nel pipistrello pescatore da renderlo capace di percepire un oggetto sottile quanto un capello umano che emerge solo per un millimetro dalla superficie dell'acqua. Il pipistrello si lancia sull'obiettivo e fendendo l'acqua con gli artigli taglienti come rasoi afferra la preda e la denta. In alto fra gli alberi il basilisco confida nel mimetismo per sfuggire ai predatori. Il crotopterus dopo essersi ripreso dallo sgradevole incontro con la rana arboricola è ancora alla ricerca di un pasto. Per cacciare si serve sia dell'udito che della vista. Difatti i pipistrelli non sono totalmente ciechi come comunemente si pensa. il sauro completamente indifeso sparisce fra le ali del pipistrello che raggiungono un'apertura di 60 centimetri. Il crotopterus è un predatore formidabile. Si nutre di roditori insetti e spesso anche di altri pipistrelli. Non tutti i pipistrelli sono carnivori. molti si nutrono di bacche e frutta e svolgono un ruolo importante nella diffusione dei semi. La corollia è una di queste specie di pipistrelli. La femmina deve continuare a nutrirsi pur portando con sé il suo unico nato. Non è un'impresa facile perché il piccolo può pesare quasi la metà della madre. la pianta piperina ha frutti verticali. Sembra quasi che durante la sua evoluzione abbia pensato ai pipistrelli. È quasi impossibile vedere il pipistrello in azione filmandolo a velocità normale. solo a rallentatore riusciamo a vederlo volare verso la pianta indugiare per scegliere un frutto maturo e quindi staccarlo dal ramo. i frutti sono pieni di semi e il pipistrello li mangia prima di scartare lo stelo. I semi passano attraverso il sistema digerente dei pipistrelli senza subire danni. In una sola notte più di 60.000 semi possono essere inghiottiti da un pipistrello ben presto saranno disseminati nella foresta. I frutti dell'albero cecropia pieno di semi vengono mangiati dagli uccelli durante il giorno e di notte dai pipistrelli. Normalmente i pipistrelli eliminano i semi in volo e quando si trovano a sorvolare zone disboscate dall'uomo contribuiscono involontariamente al rimboschimento. l'albero e i pipistrelli nella foresta i frutti maturano durante tutto l'anno e i pipistrelli sanno dove e come e come trovarli. spesso sono necessarie acrobazie spettacolari per staccare i frutti dalla pianta. Milioni di anni di coesistenza hanno portato molte piante a sviluppare i frutti per venire incontro ai bisogni nutritivi dei pipistrelli. Altre piante contano su di loro per l'impollinazione dei fiori. Il glossafaga è un pipistrello che si nutre di nettare l'equivalente notturno di un colibrì. Prende il suo nutrimento da molti fiori ma predilige soprattutto una pianta di cui è un affezionato visitatore notturno. Dal fiore pieno di nettare sporge una grande protuberanza carica di polline. Mentre il pipistrello visita il fiore il suo dorso si copre di polline. Il pipistrello visiterà numerose piante durante la notte e trasporterà il suo prezioso carico di polline fecondando in tal modo molti fiori. Così contribuirà alla sopravvivenza delle piante e contemporaneamente si assicurerà il cibo per il futuro. Intanto il vampiro è andato alla ricerca del suo primo pasto notturno. Questa specie è responsabile dei pregiudizi umani sui pipistrelli. Si nutre esclusivamente del sangue di altri mammiferi e di uccetti. Rappresenta un problema per le fattorie che confinano con la foresta pluviale dove vacche e galline sono spesso le sue vittime preferite. Il vampiro si muove furtivamente. I rivelatori di calore che il pipistrello ha nel naso gli indicano dove i vasi sanguigni della preda sono più in superficie. prima ammorbidisce la pelle leccandola e poi la morde. La ferita è piccola ma gli anticoagulanti contenuti nella saliva contribuiscono a mantenere fluido il sangue mentre il pipistrello beve. come tutti i pipistrelli i vampiri sono animali pulitissimi e passano molto tempo a lavarsi e a lisciarsi soprattutto dopo i pasti. allo spuntar del giorno i pipistrelli sono già tornati alle tane diurne gli uccelli cominciano a cantare mentre un coati si riposa nell'incrocio di rami di un albero un altro giorno sorge a illuminare la foresta e la sua ricca varietà di abitanti e la sua ricca nonostante la sua maestosa apparenza la foresta pluviale è un ecosistema molto fragile i rapporti fra gli animali e le piante che vivivono sono molto complessi e si sono evoluti nel corso di milioni di anni di milioni di anni di milioni di anni che vivono